Ciao picciotti, sono Matti Collection, eccoci in un nuovo video unboxing Voglio farvi vedere qua una bustina nuova che ho preso delle Hot Wheels Sports Cars Pesa 50 centesimi, una, due a un euro Abbiamo qui, che si possono trovare, delle macchinine Qua erano addirittura 3 euro il prezzo iniziale di qualche anno fa E niente, ci trovano pure delle rampe in più, tipo questa Ora vediamo, spacchettiamo veloce Carina questa rampa, bella E' tutta plasticosa ovviamente Ah, c'è la checklist Apriamola subito 8 sports cars E questa è la lista Allora, Carina, secondo me, quella verde Quella gialla normale e quella rossa Questo lo ritrovo dentro Anno 2019 Aspettavo più vecchio E abbiamo trovato quella gialla Ah, bellina, bellina Qua ha scritto sempre Twiz Di qua e di là Sotto, registrato Mattel In fronte Detto e retro Vediamo Vediamo Ecco, sono quelle che vanno indietro A carica Tradizionale Boom Carina, carina Anche se è molto plasticosa Ovviamente prodotto adatto ai bambini Ma anche qualche collezionista di Hot Twins Non se le farà sfuggire, secondo me Vediamo se posso prendere altre parti Non lo so Vediamo se le trovo ancora in qualche negozietto Certo, di quanta centesima Una bustina, ragazzi Conviene Molto Beh, ragazzi Ci vediamo in un altro Unboxing Non lo so quando Se ne farò Prossimamente E bella a tutti, ragazzi Alla prossima da Matti Collection Mi raccomando Metti mi piace E iscriviti al canale Ciao